bella raga dal vostro grande capitano napoli e benvenuti in questo nuovo video subito dopo questa breve premessa ci sarà un video una clamorosa notizia di calcio a mercato che riguarda il nostro amatissimo napoli un ringraziamento a tutti quelli che si stanno continuamente iscriviti al mio canale tutti quelli che non si sono ancora iscritti al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale e mettete un bel like a questo video sempre e comunque forza napoli ciao a io parliamo del mercato in uscita del nostro napoli perché sappiamo che serve un tesoretto per fare un po di cessioni per fare appunto un grande napoli uno degli indiziati ad abbandonare il napoli potrebbe essere anche simone verdi che dopo una sola stagione al napoli dove ha deluso dove esattamente un anno fa è stato comprato dal bologna per 25 milioni di euro due società fortemente interessate sono il torino e la samp d'oro richieste dava mazzari e dal nuovo legatore della samp doria eusebio di francesco il napoli vuole almeno 20 milioni di euro appunto perché un anno fa ne appena ne ha spesi 25 sembrerebbero troppo eccessive le richieste della samp d'or del torino si cerchi eventualmente di trovare una formula che accontenti sia napoli magari con un prestito con diritto di riscatto obbligatorio vedremo se si riuscirà a trovare una soluzione o se due soluzioni se napoli vorrà continuare a puntare su di lui un'altra stagione per non fare troppo deprezzare il prezzo o se queste due società faranno un affondo decisivo o se qualche società magari me di medio bassa classifica del campionato inglese o del campionato tedesco possono essere interessate a questo giocatore ditemi cosa ne pensate nei commenti se sareste contenti se verdi andasse via oppure se sareste contenti se verdi rimane al napoli fatemi sapere ci sono i commenti ciao 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 Grazie a tutti.